Era il 14 dicembre 1985 quando il ministro Franca Falcucci per lo Stato italiano e il cardinale Ugo Poletti per la CEI firmarono l'intesa sull'IRC, l'insegnamento della religione cattolica, nelle scuole statali. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti, molto è cambiato e anche l'IRC, dalle percentuali di adesioni per così dire bulgare dagli inizi, ha registrato un'emorragia continua e importante. Gli ultimi dati, quelli riguardanti l'anno scolastico in corso, rivelano una media di iscritti pari solo all'81,57%, significa che circa 18 studenti ogni 100 si sono persi per strada, non pochi. Anche negli ultimi dieci anni la flessione è stata di oltre il 9%, quasi un punto percentuale alla volta. A Cremona e alle scuole superiori che si registra il collasso, con un risicato 77,82% di adesioni all'IRC, 75 e 71 se consideriamo solo gli istituti statali, dove uno studente su quattro preferisce far dell'altro. Solo quattro anni fa erano uno su cinque. E se negli stessi istituti cattolici l'iscrizione è ancora plebiscitaria in elementari, media e superiori, anche qui si comincia a vedere presso le scuole per l'infanzia un significativo 1,83% di non avvalentesi. Di questo passo in poco tempo la materia potrebbe, se non sparire, divenire quantomeno insignificante cifra alla mano. Che sia un bene o un male, ciascuno ha la propria opinione, qui non è questione di schieramenti, ma è il volto della scuola ad essere cambiato e a cambiare ancora. Sono le coordinate di riferimento culturali ad essere diverse e se anche non si va verso un concetto di laicité alla francese, di certo siamo lontani anni luce anche dalla scuola del libro Cuore.